Abbracciare la proposta del Signore può creare un certo disorientamento. Da una parte c'è la voglia di dire sì, ti seguirò ovunque tu vorrai, a qualunque costo. Da un lato il nostro essere umani porta a chiederci cosa ci guadagno in tutto questo, come del resto ha pensato anche Pietro domandandolo a Gesù. Ed è qui che si percepisce in modo forte e chiaro l'amore che Dio nutre per noi e per il nostro essere fragili. Egli infatti ci dice che chiunque sarà disposto a lasciare tutto, anche ciò che ha di più caro riceverà cento volte tanto, ma soprattutto la vita eterna. Lasciare tutto, carissimi, non significa essere mandati allo sbaraglio, ma essere accompagnati dallo stesso Cristo e da Lui sostenuti sempre. Affidiamoci dunque, affidiamoci quotidianamente all'amore del Padre, consegnandogli tutta la nostra vita, con le sue gioie, con le fatiche, proprio come hanno fatto i santi, persone comuni che, decidendo di dire sì, hanno dimostrato di aver ricevuto veramente cento volte tanto. Buona e santa giornata a tutti!